Signore, dove state andando? Venite qua. Che c'è? Che ho fatto? Ho avuto una segnalazione dal direttore del supermercato dove adesso state uscendo. Mi ha detto che avete rubato il cappello. Ma quanto mai? Questo cappello è mio. Il direttore mi ha detto che l'avete rubato. La mia parola contro la sua. Appuntate, questo cappello è mio. Lo dovete provare. Va bene, ecco qua. Come so? So bene. Come so?